Il comune di Castellabate continua con il trend positivo nella diminuzione dei contagi. Lo scorso sabato quattro cittadini negativi al tampone di verifica sono guariti dal virus. Ancora una bella notizia per la comunità di Castellabate. Dionigi Verrone, cittadino di Castellabate, è ritornato a casa perché è guarito dal Covid. Dionigi è stato ricoverato presso la terapia subintensiva del Covid Hospital di Agropoli il 27 dicembre 2020 e a distanza di 25 giorni ha sconfitto il virus. Il 48enne di Castellabate non ha nessuna patologia pregressa, ma nonostante ciò è stato necessario il ricovero nel reparto speciale. A Dionigi, ma anche a tutti i cittadini del comune di Castellabate che ancora oggi si trovano in isolamento perché positivi va l'augurio più grande di una pronta guarigione e ripresa della propria condizione di salute.